Tu ero un po' in avvicinamento rapido! Prezzetemi! Non possiamo andare avanti così per sempre! Le cose si metteranno molto peggio se non arriviamo al Monte Rushmore. Perché? Che cosa c'è al Monte Rushmore? Questo non è il momento per le spiegazioni. Dovete avere fiducia in me. Beh, io non mi faccio battere senza lottare. Ben, aspetta! Vola come una tarpalla, ma funge come uno scorpione. Dammi l'Odby, Drexel. Si può sapere chi è questo! Dove stiamo andando? Dobbiamo aiutare Ben! Lo faremo, ma prima abbiamo bisogno di un aiuto speciale. Fammi indovinare! Al Monte Rushmore? Nonno, lo sai! Ci sono dei momenti in cui mi fai paura! Comincio ad avermi abbastanza! Ehi! Come ci sei riuscito? Un bambino! L'Omnitrix è nelle mani di un insulso maccioso! A quanto pare l'Omnitrix si è già saldato al tuo DNA! Questo... suppongo voglio dire che non mi lascerai andare, giusto? Indovinato! No!